prepariamo insieme dei deliziosi carciofi fritti per prima cosa dobbiamo pulire i carciofi se ancora non sapete come pulirli qua nel canale c'è un video dove spiego passo dopo passo è semplicissimo una volta che i carciofi sono puliti andremo a tagliarli a fettine è importante tagliarle le fettine né troppo sottili né troppo spesse ora qui ho tre uova vado a mettere un pizzico di sale un po di pepe un goccino di latte e sbato tuffiamo dentro i carciofi giusto per dare una sporcattina diciamo nell'uovo e poi li passiamo nella farina doppio zero potete prepararli anche senza l'uovo basta passarli nella farina quindi diciamo scegliete voi come preferite dopodiché li facciamo friggere in olio bollente in questo caso misto mais e girasole e ora il segreto per una frittura ottimale una volta che i carciofi sono pronti non appoggiate direttamente sulla carta assorbente ma sopra una griglia in questo modo l'aria riesce a circolare e il fritto viene molto più croccante conditeli con un bel pizzichino di sale ecco qua goduri assicurata spero che questa ricetta vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao